Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì, scusate, venerdì 17 maggio Buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa quotidiana rassegna stampa come ogni giorno offerta da Tecnocampus Anche oggi sono tanti i fatti in primo piano a cominciare dal giorno giusto visto che oggi è l'ultimo giorno di questa splendida settimana una settimana di maggio che purtroppo ci ha portato tempo instabile e che adesso sembra voler portare al miglioramento ma tanti sono i fatti di cui vi dicevo già all'inizio rassegna e si parte proprio dalla politica gli scontri interni nella politica ancora si parla di Europa visto che ci avviciniamo a falcate proprio grandi falcate verso le elezioni per quanto riguarda il Parlamento europeo ed ancora buone notizie ma le vediamo subito nei fatti delle testate nazionali e cominciamo subito in apertura di questa rassegna stampa con il quotidiano e il Corriere della Sera e vediamo infatti che in apertura troviamo proprio una litigata del governo sugli arresti nomine in cambio di voti il sindaco leghista di Legnano ai domiciliari e intanto vediamo come i due vicepremier affrontano questa situazione da un lato c'è Di Maio che dichiara è una tangentopoli dall'altro lato Salvini invece andiamoci piano e dice vogliono impedire la nostra vittoria insomma c'è chi comunque paventa una tangentopoli bis un nuovo filone di inchieste che sembrano davvero sconvolgere l'intera politica ma dall'altro canto c'è chi invece ferma tutto e dice no ormai siamo prossimi alle elezioni vogliono rallentare la nostra corsa e diminuire quelli che sono i nostri consensi ma vediamo subito che infatti sono tre gli arresti a Legnano per presunte mazzette ai domiciliari finisce anche il sindaco leghista una nuova inchiesta che crea tensione nel governo il leader dei 5 Stelle Di Maio parla di nuovo a tangentopoli e Salvini dice assolutamente no e poi vediamo l'errore dei partiti scorciatoie pericolose nuova tangentopoli contro giustizia orologeria raccontata da Massimo Franco non preoccupano soltanto le inchieste per corruzione inquieta altrettanto l'uso che delle indagini si va facendo da parte di chi le subisce da parte di chi pretende di esserne immune in nome di una superiorità morale dai contorni piuttosto controversi e intanto Matteo vede nemici potenti e la Lega è sotto attacco chi tace complice dice con questo spirito e con questo slogan Salvini si prepara alla manifestazione elettorale di Milano è da giorni del caso di Ciotti che ha iniziato a maturare un convincimento e cioè che ci sia un gioco nel quale a lui è stato assegnato un ruolo è da quei giorni che ritiene di essere finito appunto nel mirino ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano affrontiamo adesso quello che è l'editoriale che ci parla tutto di Europa la guerra all'Europa è finita si domanda appunto Paolo Miero in questa giornata e se l'Europa fosse in condizioni meno disastrose di come soprattutto qui da noi la si percepisce e la si descrive se ciò che è accaduto in conseguenza dell'ultima devastante crisi economica l'avesse rafforzata anziché ridurla allo stremo sono domande più che plausibili per come si presenta la vigilia del voto del 26 maggio dopo una campagna elettorale in cui il dibattito è stato relativamente ordinato e le maggiori insidie sono scaturite dal nostro paese l'impressione complessiva è che dopo una grande tempesta riparati i danni e le ammaccature ci siano tutte le premesse per la ripresa del cammino con ulteriori passi in vista dell'edificazione dell'edificio continentale insomma nonostante le diatribe nonostante tante suscettibili variazioni ovviamente in relazione proprio a questo cammino dell'Europa sembra che tutto stia proseguendo e sembra quasi che dalle ceneri si voglia rinascere proprio come un'antica fenice però tutto, ripeto, è ancora in divenire e soprattutto suscettibile di domande e di risposte che sono le più varie e possibili e ancora vediamo, si parla ancora una volta di reddito di cittadinanza dalla prima pagina del Corriere della Sera però questa volta se ne parla in maniera diversa mentre fino a pochi mesi fa si parlava della corsa per ottenere il reddito di cittadinanza adesso il Corriere della Sera ci racconta della retrocessione, ossia di chi dice io il reddito di cittadinanza non lo voglio più è il caso che viene raccontato proprio da questa testata in prima pagina di quello che viene definito Marec e gli altri che rinunciano infatti al nuovo sussidio non è ne occupato, ne disoccupato, ne giovane, ne pensionato né povero, né non povero è un singolare prodotto della complessità sociale dell'indigenza e di quel palcoscenico della vita che è Napoli dove niente è come appare mi chiede di chiamarlo Marec anche se ha 53 anni e una pelata che esclude ogni somiglianza fisica con il suo idolo e ovviamente stiamo parlando di Amsic e la sua cresta è venuto al centro servizi della Will Zona Stazione perché vuole rinunciare al reddito di cittadinanza insomma queste sono le vicende che adesso si articolano proprio in relazione a questa situazione ma anche da qui si parte per una nuova polemica e soprattutto per una politica che forse dovrebbe ascoltare meglio e intanto vediamo nella parte centrale di questa pagina una buona notizia ricordate Alex il bambino che aveva necessità di essere curato e per questo si è mobilitata un'intera città non solo la città di Napoli ma anche altre città però in particolare la città di Napoli ha dato segno proprio della sua capacità di essere accanto a chi soffre e infatti adesso lo vediamo bello, gioioso e circondato dalle bolle colorate Alex Guarito infatti gioca con bolle e macchini nel bimbo per cui si cercava un donatore e che ha fatto mobilitare l'intera Italia il piccolo Alex infatti gioca e ride lontani i giorni del dramma e della paura la malattia rara, inarrestabile un donatore cercato in ogni angolo del mondo che non si trovava mai poi finalmente il trapianto in Italia al bambino Gesù di Roma il recupero, la forza di sorridere il nostro bimbo è nato tre volte, dicono i genitori, a Napoli e adesso il futuro non fa più paura il piccolo si muove sulla terrazza azzurra tra i palloncini e i pupazzi il momento più bello, dicono mamma e papà quando la sera ci ritroviamo nel lettone tutti e tre e vederlo dormire sereno allarga il cuore insomma, si era parlato proprio di una fine di questo bambino quando i medici avevano detto che non c'era più assolutamente nulla da fare i genitori hanno tenuto duro e hanno dimostrato che qualcosa si può sempre fare ovviamente come siamo soliti dire siamo sotto il cielo, tutto può accadere però la realtà è che bisogna sempre credere nella propria volontà, nei propri sogni e lottare per riuscire ad arrivare dove si vuole anche nel campo della salute anzi oserei dire di più non anche ma soprattutto nel campo della salute non lasciamoci semplicemente travolgere e sopraffare da chi ci dice che tante cose non sono come in realtà le vorremmo o potremmo farle stiamo attenti e cerchiamo di vivere il più possibile la nostra vita perché questo ci è dato e questo è il nostro sogno e vediamo ancora gli altri fatti e vediamo questa mattina la verità che cosa ci racconta piazze scatenate, scontri a Napoli vogliono abbattere Salvini dice questo quotidiano tra poco si vota e le inchieste sui leghisti spuntano come funghi l'ultima a Legnano anche il vicepremiere nel Milino dei Giudici per i voli di Stato caso sollevato da chi chiudeva gli occhi sugli elicotteri di Renzi e è cavalcato dai presunti alleati di governo e intanto vediamo nella parte centrale il suo candidato a Cagliani non fa il tifo per l'aborto Edi Maio Lua e Spelle e intanto per quanto riguarda gli immigrati vediamo una riduzione meno reati ecco i numeri il decreto sicurezza funziona calati del 15% stupri e omicidi accoglienza ridotta in tutte le regioni il Viminale annuncia con le risorse risparmiate assunti 8.000 nuovi agenti e intanto per il PD Zingaretti Schizofrenico definisce appunto questa testata il segretario del Partito Democratico custode dei conti e spara un piano elettorale da 100 miliardi ed infine una decisione pesante Draghi ha in mano le sorti di Carige e di un pezzo di elezioni ed infine nella parte bassa della pagina concorrente si suicida chiuso un reality inglese programmi accusati di fomentare il disagio dei partecipanti ovviamente anche questo può essere un fatto che destra la nostra curiosità la nostra attenzione quando ormai le trasmissioni televisive i social sono entrati talmente tanto nella nostra vita da rendere quello reale la realtà ripeto ancora una volta è sempre la nostra esistenza e ancora vediamo la parte sportiva De Rossi era pronto a giocare anche a gettone un audio invece svergogna la Roma e ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano ci spostiamo adesso su Il Fatto Quotidiano Umberto Fazzi lo vediamo nella prima parte della pagina 71 anni a Carpi viene portato in questura con le manette ai polsi la sua unica colpa aver fissato lo striscione canaglume fascista sul tetto di casa e da lì è partita tutta una controversa polemica e soprattutto una serie infinita di proteste da tutte le parti d'Italia ma questo lo vedremo poi e intanto vediamo nella parte centrale della pagina Luigi Di Maio intervista al vice premier del vice premier al fatto lega un problema se queste inchieste salgono più in alto parla del capo dei 5 Stelle mentre i giudici sgominano la giunta a Legnano e l'assessore svela un accordo con Salvini tutti i partiti sono attraversati da scandali e tutti fanno muro tenendosi indagati e arrestati per corruzione dice il 5 Stelle e conferma Rixi se condannato dovrà dimettersi e intanto vediamo che cosa accade nel Vaticano niente udienza se non cambia ma a chi si riferisce Papa Francesco? il Papa si riferisce proprio all'altro vice premier che è Salvini perché lo scontro è aperto e soprattutto c'è questa difficoltà a venirsi incontro e infatti il Papa allora spinge e dice la Chiesa va punito dai cattolici nelle urne e insomma Legnano ha arrestato il sindaco della Lega e ha azzerato la giunta comunale per corruzione e insomma veramente questi sono i fatti che vengono raccontati proprio in primo piano oggi sulle testate nazionali e che sembrano mettere in bilico ogni situazione ma ancora vediamo a Casal Bruciato assalto nero a Eirom informativa dell'arma sui rossi a uso leghista l'iniziativa dei carabinieri contro i centri sociali sgraditi questa volta a Salvini e compagni e ancora la Digos a scuola torna il reato di lesa maestà e ancora si parla di una volontaria in Kenya ormai è stata rapita da quasi un anno e troppo spesso di questi rapimenti si tende a non parlare in più Silvia doveva sparire aveva assistito a un caso di violenza oggi non si sa ancora dove sia e l'Eurofighter mediazioni Leonardo di 171 milioni sulle armi chi li prende e questo è ancora tutto un segreto e nella parte bassa della pagina eccoci qua fenomeni matematico francese che spopola in rete YouTube è il re dei conti infatti si racconta che nei primi decenni dopo l'invenzione della stampa molti lettori comprassero i libri e li facessero ricopiare dagli emanuensi per poterli ricondurre alle condizioni di lettura dei manoscritti ai quali erano abituati l'aneddoto suona strano addirittura incredibile solo fino a quando ci ricordiamo che molti di noi dopo l'invenzione dei personal computer hanno continuato a stampare le schermate per lo stesso motivo per un utilizzo corretto dei nuovi media bisogna ingenerare attendere la generazione che è nata proprio dopo di essi ma ancora vediamo gli altri fatti in primo piano lo facciamo questa volta con un altro quotidiano nazionale che è libero e andiamo a vedere proprio la sua prima pagina e vediamo com'è affronta le notizie di oggi caccia giudiziaria leghista inchieste prima del voto meglio riderci su arrestato il sindaco di Legnano sia il sindaco del Carroccio e indagine su Matteo perché due volte al mese sale sull'aereo della polizia Di Maio evoca Tangentopoli e scorda i suoi capoccia a processo e il capitano siamo sotto attacco vogliono impedirci di vincere ricordiamo che il capitano è proprio Salvini calano i reati aumenta l'odio e viene raccontato proprio da questa prima pagina che adesso il nemico è Salvini e intanto vediamo nella parte più bassa il ministro Bonafede dorme nelle nostre galere a quanto pare prospera l'islam infine vediamo che nella parte destra della pagina pure il Corriere racconta balle sul clima Siberia a 30 gradi ma che insomma ha veramente raccontato in maniera dissimile dalla realtà quello che è il clima questo viene detto appunto da questa prima pagina del quotidiano libero e sembra che tutto sul clima sia ancora veramente in bilico ma soprattutto non si sa ancora quali pesci pigliare e intanto nella parte bassa della pagina Lendelon Nacan squalificato come maschilista che folia il festival del cinema non delle femministe e insomma anche questo rappresenta la realtà dei giorni d'oggi si tende a tutelare chiunque questo è un bene ma d'altro canto ci sono situazioni che si presentano sempre più controverse e intanto nella parte bassa della pagina è ancora polemica per la partita Lazio-Atalanta l'Atalanta è stata truffata dal VAR rigore negato perché non si usa la moviola adesso dopo il VAR ci si pone questo interrogativo e forse qualcosa potrebbe muoversi ma intanto vi lascio a qualche attimo di pubblicità non andate via noi ritorniamo subito dopo e continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali a Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E' sempre venerdì 17 maggio, questa è la rassegna stampa di Teleprima. Ancora stiamo esaminando le prime pagine dei quotidiani nazionali. Adesso passiamo al quotidiano Il Giornale, secondo cui si muove Mattarella. Conti allo sbando, il colle preoccupato per lo spread, Banca Italia pesa su famiglie ma anche sulle imprese. Berlusconi, sovranisti destinati all'isolamento. E intanto la rete silenziosa del Quirinale è questa la linea che viene denominata del non intervento. Insomma, il giornale in questo modo rappresenta appunto la linea politica che viene eseguita. Non si va avanti ma semplicemente ci si astiene. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, il vero record dei 5 Stelle fanno il pieno di soldi pubblici. Finanziamenti ai partiti 16 milioni all'anno. E intanto in manette il sindaco di Legnano. Lombardia ha un arresto al giorno, lega nel bilino delle toghe. E intanto la Banca Rossa processo, i guai di MPS, chiesti 8 anni per Mussari. E infine nella parte bassa della pagina la protesta nelle periferie di Roma. Arriva il conto a Casa Pound, 65 indagati per il blitz anti Roma. Ed infine vediamo un giallo che ha coinvolto un ragazzo italiano a Londra. Eric in questa città è stato ucciso. Questo ragazzo faceva il cameriere. Adesso si sta indagando perché non si sa assolutamente che cosa sia in realtà accaduto. E infine nella parte bassa della pagina il genio di Leonardo spiegato da Zichichi. Così la sua fantasia è anticipato matematica ma anche fisica ed astronomia. Ed infine lo show di Rete 4, Mistero Egitto, Giacobbo riscopre le piramidi. E la tappa Masnada, il giro ribaltato, Conti coglie la prima rosa degli italiani. Insomma tutte le notizie che vengono raccontate in maniera un po' surreale e rappresentate attraverso stereotipi sempre più utilizzati. Intanto il tempo in questa giornata hanno acceso il rogo per Salvini, inchieste a Raffica sui fedelissimi e la Corte dei Conti che indaga sui suoi voli di Stato. Ovunque spunto una vittima del Ligder leghista pure Di Maio ti fa spread contro di lui. E intanto povera sinistra che brutta fine tra Greta e Papa, dirlo è Marco Rizzo nell'abitacolo, eccolo qua. E il caso De Rossi che fa pezzi la Roma. Il capitano contro Pallotta mi caccia e poi mi propone il contratto a gettone Ranieri con lui. Insomma crescono ancora le polemiche per questa vicenda che riguarda appunto la squadra giallorossa. E intanto la Lazio è in festa per la Coppa ma in zaghi resta in bilico il nodo del futuro dell'allenatore. Infine il titolare di Assunta Madre, il ristoratore dei Vipro Mani, rischia sette anni di carcere. E ancora salvato il traforo della A24, niente caos in autostrada, il Gran Sasso. Insomma buone notizie a non chiude. Abbiamo visto che comunque nei giorni scorsi si era pamentata questa chiusura, adesso è stata scongiurata. E ancora vediamo la Repubblica. Chi cancella la storia viene raccontato domani su questo quotidiano. E intanto titola così Legnati a Legnano. Arrestato per corruzione il sindaco della cittadina, simbolo della Lega. Il Movimento 5 Stelle attacca gli alleati. Dovete cacciare i colorotti. Il Viminale pubblica la lista dei trasferimenti di Salvini. Il vicepremier ha anche usato un bimotore dei Vigili del Fuoco. E intanto il commento è la spanda della palude, mentre i voli di Stato e i comizi privati tutti raccontati su questa prima pagina. E nella parte centrale Berlino vigilerà sull'Italia. E vediamo nell'immagine l'intervista a Crump Carrenberg, l'erede di Merker, che appunto vediamo nell'immagine. Ancora nella parte bassa della pagina, San Donato, già dimenticati i ragazzi eroi dell'autobus. Anche questa è una vicenda che ovviamente fa clamore nel momento in cui avviene. Dopodiché che cosa accade? Tutto va nel dimenticatoio. E grazie ragazzi. E ancora la rinascita, Mick Jagger, la giovinezza della quarta età. In questi giorni ci stanno mostrando un Mick Jagger davvero esplosivo. Dopo l'intervento al cuore che ha ricevuto nel mese di aprile, sta dimostrando che tutto è possibile. Ovviamente con tenacia e costanza, ma soprattutto con attività fisica regolare. Perché ovviamente in seguito ad un intervento di simile fattura è necessario recuperare nella maniera migliore possibile. E poi si può continuare a fare tutto o quasi. E ancora vediamo il mattino, questo giorno, questo venerdì 17 maggio. Cosa ci racconta? E si parte proprio dall'arto, come sempre vediamo le notizie in breve. Duisburg, la strage in Calabria, troppe minacce. Abbiamo girato la fiction in Puglia. E ancora la rivelazione shock. Bagni, dopo la morte del mio Raffaele, mi sono fatto sterilizzare. Infine le idee, la sentenza sui migranti e il diritto internazionale. E nella parte centrale della pagina, un'intervista rilasciata proprio al mattino, Noemi chiama mamma, anche il papà. Parla per la prima volta la madre della bambina ferita a Piazza Nazionale, che dice è stato un miracolo ma è ancora confusa. Quando l'hanno operata il chirurgo mi ha chiesto di pregare anche per lui. Insieme con mia figlia è stata colpita al cuore anche la città di Napoli. Ora chiedo la pena più dura per quel uomo nero. Ringrazio tutto, tutti, dai medici, agli agenti, ai magistrati. La folla sotto l'ospedale ci ha dato una grande forza. Vogliamo adesso però una vita normale. Queste sono le parole appunto della mamma che ha vissuto e sta vivendo ancora una situazione drammatica, complicata e che sicuramente nessuno si augurerebbe né per sé né per la propria famiglia. Insomma, fatti che ogni giorno si raccontano, li abbiamo raccontati da Napoli, ovviamente possono accadere ovunque. Ci vuole maggiore attenzione, maggiore responsabilità e soprattutto più tutela per tutti. E intanto il grido di suo Lucia, i bambini di Napoli e la scuola aderisa. Quasi un anno fa sul sito del Ministero dell'Istruzione uscì la notizia che era partito il Piter, un acronimo che voleva dire con l'immancabile e pomposo inglese dei provinciali questo percorsi di inclusione, innovazione territoriale ed empowerment. Un progetto contro la dispersione scolastica nel rione Sanità per 300 minori tra i 6 e i 18 anni con la cabina di regia in prefettura con 3 milioni del Ministero e 3 della Regione Campania. Più recente è l'annuncio dei 50 milioni stanziati per tutta l'Italia con lo stesso scopo e non si contano le dichiarazioni di progetti simili. Tutto fantastico davvero, ma allora perché oggi una religiosa che si chiama appunto Sor Lucia Sacchetti insieme a molti altri volontari lancia un grido di dolore e di guerra perduta per i bambini della sanità che non vanno a scuola, per l'analfabetismo di partenza e di ritorno dei minori, per l'analfabetismo culturale degli adulti. Insomma, la risposta in questo editoriale di Montesano che racconta una realtà che probabilmente è diversa dai fatti. Intanto nella parte centrale della pagina anche da qui si parla di Salvini contro PM e Movimento 5 Stelle. Nuova inchiesta in Lombardia sulla corruzione, arrestato il sindaco leghista di Legnano, il vicepremier mai così sotto attacco, nella magistratura c'è una sponda ai 5 Stelle. E intanto ieri è stato a Napoli e ci sono stati scontri e contestazioni, il ministro in piano anti-clan, questo promette. E intanto il voto del 26 maggio e due isole simbolo, Europa antipatica anche da Ventotene, partono i migranti. Solo a Bruxelles si ricordano di noi a Lampedusa. Ed infine nella parte bassa della pagina, in Napoli alla cena di fine stagione, della rentesi a bicchiere mezzo pieno, il secondo posto non era assolutamente scontato. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo su il manifesto e vediamo nella parte alta porti chiusi alla nave delle armi Saud, mobilitazione europea contro il cargo di Riyadh, i camalli di Genova, qui non attracca. Intanto la corruzione che fabbrica di antipolitica, così viene definita appunto. E intanto nella parte centrale vediamo il titolo, eccoci qua. Duce sin fundo, il decreto sicurezza di Salvini non si discute. A Palermo, docente punita con la sospensione senza stipendio su pressione della sottosegretaria reghista all'istruzione, è accusata di non aver controllato un video degli alunni sulle leggi razziali nel giorno della memoria. Dopo la rimozione degli striscioni dai balconi, anche la scuola diventa un campo minato. Insomma, sempre più difficile la situazione, sempre più complicata. E intanto da Cannes il doppio immaginario del festival e negli Stati Uniti guerra, Iran, ovvero la costruzione del nemico. Oggi siamo sempre più in lotta gli uni contro gli altri, quasi come se non fosse una vita uguale per tutti. E intanto vediamo il dubbio nella parte alta della pagina. Avvocato in Costituzione, una scelta fondamentale, il Ministro della Giustizia Bonafede, spinge infatti sulla riforma. E nell'editoriale di Carlo Fusi, se vince l'uso strumentale della giustizia, ci troviamo ovviamente in alto mare. E nella parte centrale, si parla di Banca Italia, raddoppiato in 12 mesi, pesa su famiglie e imprese, e visco spread alto. Ovviamente di questo si stava parlando. L'Italia è così a rischio. E infine nella parte centrale, l'intervista a Carla Ruocco, sui conti Salvini non faccia l'irresponsabile. Sono queste le dichiarazioni di Salvini sullo spread. sono inutile benzina su fuoco. Parola di Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle, e presidente della Commissione Bilancio. E infine nella parte bassa della pagina, parla Andrea Barchesi, parla di Facebook, una dittatura, siamo in libertà provvisoria. Parli in per mezz'ora con Andrea Barchesi, cofondatore di Reputation Science, esperto di Data Intelligence, e comincia a sentirti come un moscerino, impigliato e imbozzolato nella grande tela mondiale del ragno. Il ragno è un alieno dalle mille sembianze, Google, Apple, Facebook, Twitter, WhatsApp oppure Instagram. Il ragno è un social media che comunque è mutante, la sua casa, l'immensa, appiccicosa, inglobante ragnatela, è impossibile resistere alla potenza sconfinata del nuovo petrolio. I data, infatti, Facebook è come una dittatura. Così viene definita in questa giornata, appunto, questo modo di comunicare, questa piattaforma che è sempre più dilagante e su cui chiunque può scrivere, può raccontare, può dire tutto ciò che accade e soprattutto, molto spesso, di formare il prossimo. E intanto vediamo gli altri fatti in primo piano, Corriere dello Sport, Max Agnelli, terzo round, ansia Juve, non c'è la fumata bianca, già oggi un altro incontro per trovare l'accordo, mentre nella parte centrale della pagina, De Rossi, l'attacco d'accusa, così mi hanno cacciato. E infatti, e bufera Roma in un audio, tutti retroscena, sull'addio, Ragneri, io lo avrei confermato e Ferrero lo voglio alla Sampa. E ancora le inchieste che vengono fatte da questo quotidiano, non siamo un paese per giovani, infatti dopo l'appello del Cittimancini a lanciare i talenti, parla Filippo Galli, si punta troppo sul risultato, ma è l'Under 17 in finale agli europei, battuta infatti la Francia, titolo con l'Olanda. E ancora nella parte bassa, l'Arabbia azzurra, Roma estraniera, internazionali, fuori tutti gli italiani, folia di Chirgios. E a Palermo, altro no al via i play-off, oggi Spezia-Cittadella, play-out si va al Coni. Ed infine, Guardiola rischia la Champions, fair play finanziario, l'UEFA processa il Manchester City. Infine vediamo ancora notizie che rappresentano lo sport, con quotidiani sportivi, la Rosa dei Conti, un italiano leader al giro dopo tre anni, stiamo parlando del ciclismo, Masnada infatti vince la tappa, il romano conquista la maglia, l'ultimo fu, pensate un po' Nibali, nel 2016. E intanto, nella parte centrale della pagina, la fumata bianco-nera, dopo due giorni di trattative, Allegri e Agnelli non trovano l'accordo, oggi ci riprovano, ma non è da Juve partire così tanti dubbi. E infine, Federer, Nadal e Diokovic, avanti a Roma, questo per il tennis, e ancora l'impresa Italia, finale europea, pregnaio 17, nell'ambito del calcio. sono insomma tante le notizie questa mattina e continuiamo ancora a parlare di informazione, ma lo facciamo dopo un momento di pubblicità, quindi non andate via perché noi vi aspettiamo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta, Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, questa volta a parlare dei fatti che riguardano la regione Campania e partiamo proprio con i fatti in primo piano che arrivano da Napoli dove si parla di cronaca maxi evasione sui rifiuti recuperati 40 milioni su 600. Il Comune infatti ha mandato 540 mila avvisi per stanare chi non paga la tassa ma non ha raggiunto l'obiettivo. L'operazione sulla carta doveva essere la panacea per le casse del Comune e infatti da dicembre a febbraio Palazzo San Giacomo ha emesso circa 540 mila avvisi di pagamento nel mirino Famiglie e Ditte ai quali si contestano 4 anni di mancati versamenti dal 2014 al 2017 in una soluzione unica. Si tratta di un numero di utenti singoli nuclei familiari, negozi e aziende che vanno dai 150 mila ai 165 mila. Il valore sulla carta di quegli avvisi è di circa 600 milioni di euro una cifra che comprende anche interessi e sanzioni. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ieri tutta una giornata del Premier Salvini a Napoli scontri tra polizia e manifestanti il lancio anche di transenne e vediamo proprio le aggressioni avvenute in piazza in questa immagine. Vediamo che cosa è accaduto scontri tra forze dell'ordine e manifestanti all'ingresso di piazza del plebiscito a Napoli nei pressi del Palazzo della Prefettura mentre era in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto appunto dal Ministro Salvini gli agenti hanno caricato i manifestanti che hanno lanciato transenne e fumogeni contro i poliziotti e infatti questo è accaduto un funzionario è stato addirittura ferito alla testa e portato in ospedale durante gli incidenti mentre gli attivisti hanno abbandonato il presidio in piazza del plebiscito sempre in più luoghi sempre più spesso si ricorre alla violenza e troppo spesso si fanno danni inutili. Ancora vediamo gli altri fatti continuiamo sempre a vedere dalla piazza di Napoli che cosa è stato fatto per reagire contro Salvini infatti è stato messo un altro striscione lo diceva anche mio fratello Pino Daniele questa lega è una vergogna eccolo qua vediamo proprio il fratello di Pino Daniele con questo striscione e anche Salvatore il fratello di Pino Daniele ha partecipato alla contestazione degli striscioni contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che era atteso a Napoli per prendere parte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dal balconcino della sua casa in via San Giovanni Maggiore Pignatelli nel centro storico di Napoli e ha esposto proprio questo striscione con una citazione presa da una canzone del fratello Pino Daniele ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Napoli confermate le condanne agli aggressori di Arturo ancora una volta si parla di violenza questa volta però la violenza operata nei confronti di un ragazzino 17enne adesso a distanza di anni i colpevoli vengono ancora una volta condannati infatti la Corte di Appello del Tribunale per i Minori di Napoli ha condannato a nove anni e tre mesi gli aggressori di Arturo ragazzo che a 17 anni stava rischiando di morire sgozzato al centro della città confermata la pena inflitta in primo grado e nessuno sconto come invocato dalla difesa dei tre del branco che il 18 dicembre di due anni fa hanno aggredito e ha coltellato un ragazzo che faceva ritorno a casa in via Foria probabilmente anche per rapinarlo del cellulare che aveva tra le mani i tre furono individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e dopo un'indagine molto complessa ancora vediamo gli altri fatti che racconta questa testata online che è il mattino appunto l'intervista fatta alla mamma la mamma di Noemi rompe il silenzio voglio la pena più dura per quell'uomo nero e infatti è questo che chiede non vendetta ma verità e giustizia è Tania la mamma di Noemi che affida all'avvocato Angelo Pisani alcune riflessioni e risponde alle domande affidate al mattino infatti racconta di Noemi mia figlia ancora a rianimazione ci vorrà tempo per guarire completamente ho provato e da volte ancora provo la disperazione più totale quando vedo che Noemi soffre la domanda è chi ha sentito vicino in questi giorni tante persone quando Noemi starà bene ringrazierò di persona tutti uno ad uno per il grande affetto che la città di Napoli ci ha fatto sentire per il momento dico solo un grazie collettivo a tutti alle forze dell'ordine ai magistrati ai medici a tutti quelli che hanno sentito come loro il nostro dolore non ci sono parole per descrivere la vicinanza che ci è stata espressa in questi giorni terribili soprattutto un'attenzione per i medici del santo buono tutti sono e restano i nostri angeli custodi dice se potessi farei statue d'oro ai dottori che hanno salvato mia figlia mi hanno detto che quando è arrivata in ospedale sembrava una ferita da guerra adesso siamo ancora in una fase critica ma ci affidiamo a Dio che ci ha protetto finora permettendoci di arrivare fin qui bacerei la mano al dottor Giovanni Gaglione anche per il suo coraggio io bacerei la mano tutti i giorni la sera del ferimento ricordo che si prese la responsabilità di operare Noemi e ci chiese di pregare anche per lui che doveva fare l'intervento e ancora vediamo le altre notizie in primo piano sciocca a Napoli ancora un agguato questa volta nell'ospedale dei Pellegrini un 22enne ferito alle gambe la camorra apre il fuoco anche in ospedale infatti questa notte alcuni ragazzi hanno portato all'ospedale dei Pellegrini un 22enne dell'Arenella conferita d'arme da fuoco alle gambe poco dopo nel piazzale il nosocomio è entrato un ragazzo che indossava un casco e che ha sparato alcune volte verso il cortire presumibilmente verso il 22enne ma questa volta senza corpirlo e ancora vediamo gli altri fatti vediamo oltre alle proteste contro Salvini quelle che sono le novità che lui racconta il piano nazionale per fermare i clan promette e infatti ad annunciarlo dalla prefettura di Napoli dove ieri ha presieduto un comitato per l'ordine pubblica e proprio il ministro all'interno Matteo Salvini ma la conferenza stampa sull'incontro con i vertici di magistratura a forza dell'ordine e sindaco diventa anche l'occasione per uno sfogo il numero uno del Viminale torna infatti su una notizia abbattuta poche ore prima dalle agenzie e che riporta l'apertura di un fascicolo esplorativo della procura della Corte dei Conti del Lazio sull'utilizzo dei cosiddetti voli di Stato tornerò a Napoli dichiara non più in aereo ma in bicicletta perché qualcuno sta lì a guardare come vengo uso l'aereo per lavorare non per venire a mangiare una pizza su lungomani le spalle larghe e questo non mi tocca ma per la mia parte politica c'è un attacco che non c'è mai stato negli ultimi vent'anni questo appunto è lo sfogo che fa Salvini ancora vediamo gli altri fatti notizie buone da Napoli brevetti e prototipi a Napoli nuovo per le start-up e infatti Tim Cook prima di riuscirci ripeteva spesso i suoi apriamo un centro di ricerca a Napoli che è uno dei luoghi più sfidanti della terra e cresce così del 20% all'anno l'investimento verso l'innovazione a sud e questi sono veramente i fatti che ci piace raccontare e ancora a Napoli l'albergo dei Napoli in vendita nell'edificio fantasma solo i terremotati infatti a guardare l'immensa facciata bianca che domina piazza Carlo III l'albergo dei poveri sembra un'opera straordinaria magnificente poderosa osservare il retro di quella facciata e invece viene fuori la verità è semplicemente un gigantesco rudere imbellettato con una minuscola porzione rinnovata insomma ciò che si racconta in questi giorni proprio di questa immensa struttura che è l'albergo dei poveri che vuole essere messa in vendita probabilmente questa rappresenta l'unica soluzione possibile o auspicabile e ancora vediamo le altre notizie questa volta ci spostiamo nella provincia di Caserta dove c'è un evento di cronaca omicidio in clinica soffocato con la vatta mentre dorme l'uomo è stato soccorso e portato in ospedale dove però è deceduto infatti l'hanno raccontato ieri sera da Caserta News tragedia a Caserta un uomo è stato soffocato mentre stava dormendo da un altro uomo che era ricoverato nella stessa struttura ubicata in una frazione collinare del capoluogo il dramma si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì quando i sanitari della struttura casertana hanno trovato l'uomo quasi agonizzante ed hanno immediatamente allertato i soccorsi il paziente è stato trasferito al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna in San Sebastiano in Caserta dove però è deceduto è stato lo stesso personale della clinica ad allertare la polizia su posto si è portato una volante della questura che ha indagato per tutta la giornata insieme agli uomini della squadra mobile di Caserta che hanno cercato di ricostruire l'accaduto e ancora stanno indagando ancora altri fatti in primo piano Caserta sicura reati in calo dell'11% nel primo trimestre dell'anno i numeri diffusi dal Ministero dell'interno calano anche gli stranieri ospiti di strutture e di accoglienza vediamo un'immagine sorridente del Vice Premier Salvini e vediamo infatti che si parla di un calo dell'11,5% dei reati nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono questi i dati riguardanti la provincia di Caserta diffusi al Ministero dell'Interno in vista del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica presieduto da Matteo Salvini proprio nella serata di ieri insomma una riduzione di crimini che sembra essere l'auspicio migliore per questa nostra terra che ha bisogno veramente di essere sempre più valorizzata e non demonizzata e anche con questa notizia finiamo per oggi la rassegna stampa vi do appuntamento come sempre a domani e soprattutto vi ringrazio per aver scelto la nostra rete e per aver scelto di ascoltare i fatti insieme a noi ringrazio anche Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione e farla a 360 gradi sull'Italia ma anche sulla regione Campania su Caserta la sua provincia e darvi tutto ciò che si può per raccontare la verità io vi saluto vi auguro una splendida giornata e vi do appuntamento alla prossima edizione della rassegna stampa continuate a seguire i programmi di Teleprima buona giornata a tutti a tutti questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti